Amici bellini, lo so, ci sarebbero delle cose, ci sono molte cose di cui parlare, però la mia scelta è importante, la mia scelta è editoriale e precisa, quindi invece di fare un titolo a chiappa click, un titolo insomma, cominciamo. E' un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora ragazzi, vi siete accorti insomma, ringrazio chi è già iscritto, chi non è iscritto si iscrivesse, non ve lo chiedo per favore, vi obbligo a iscrivervi al canale, a lasciare un like, perché lo sapete come funziona, no? C'è la notizia del giorno, c'è la notizia che viene rimbalzata da vari siti, da tutte le cose, ed è quella che viene cercata su YouTube. Io invece oggi ho fatto una scelta ben precisa. Oggi io voglio sottolineare una notizia che non ho visto in giro dappertutto, non ho sentito molte persone chiedere scusa. Ragazzi, Diego Armando Maradona viene assolto per le accuse di evasione fiscale in maniera completa, e il fisco deve pagare le spese del processo. Ragazzi, è importantissima questa cosa qua, perché per anni Diego è stato martorizzato dalla stampa, dallo Stato italiano, è stato umiliato, è stato un accanimento pazzesco nei confronti di Diego, quando poi è stata adesso finalmente, ufficialmente smentita questa cosa, assolto, assolto completamente. Che cosa significa questo? Significa che molte persone devono chiedere scusa, e significa che io invece di fare un video più di acchiappaclick, posso parlare della formazione, Teo Hernandez che sta recuperando, Lozano che sta recuperando quindi la sfida, possiamo parlare di tutto e oggi magari lo accenniamo pure, però per me è importante oggi fare un video dove il main objective of the video is that Diego needs to be asked sorry. Le persone devono chiedere scusa, tutti quelli che lo hanno accusato, evasore, cocaino, cocainomane sì, ed ha pagato per quello, ed ha pagato con la vita anche per quello, perché se è chiaro, è chiaro. Ma tutto quello che si è fatto contro Diego Armando Maradona in vita, è qualche cosa che va oltre, perché è chiaro che era un personaggio rivoluzionario, era un personaggio che denunciava lo schifo che c'era all'interno del calcio mondiale, ed è stato martorizzato per questo, quindi per me è importantissimo, se voi andate a vedere, se voi cercate su Google, e scrivete per esempio Messi, evasione fiscale, troverete tra gli altri anche un bel articolo del Corriere, dove dice VIP e fisco, ecco le star nei guai, no? Si parla di Valentino Rossi, si parla di Vasco Rossi, si parla di Messi, si parla anche di Sofia Loren, io non è che mi devo difendere i miei e poi attaccare gli altri, Sofia Loren è una dei nostri, Ronaldo, evasione fiscale, faccio l'esempio di Messi, Messi, evasione fiscale di 4 milioni, una cosa del genere, se la cava con una multa di 200.000-400.000 euro, non mi trovo, capite? Non mi trovo, evitano il carcere pagando una multa, e va bene sempre a loro. Dobbiamo chiedere scusa a Diego, perché Diego faceva parte di questa lista, mi aspetto smentiti, mi aspetto gente che rettifichi, perché si è sbagliato all'accuso, ogni volta che tornava gli pigliavano gli orologi, gli toglievano le cose da mano, cioè veramente uno schifo, uno schifo, e l'hanno costretto poi dopo a non poter tornare più, a vivere sempre con questa cosa addosso, e si vedeva proprio che lui ne soffriva, proprio psicologicamente, di questa cosa qua. Quindi per me oggi il titolo, avrò meno click, avrò meno visualizzazioni, non me ne frega, ne ho sentito parlare troppo poco in giro per il web, quindi io il mio dovere era di fare un video dove si esalta questa situazione qua, perché non lo dice nessuno. Allora tutti quelli che si sono divertiti nel tempo a dire, evasore che schifo, l'Italia non è rispettato, l'Italia l'evasore fiscale, chiedessero scusa immediatamente, noi le scuse le accettiamo per Diego, por parte de Diego, Accendiamo le scuse, perché purtroppo questa soddisfazione avviene solo quando lui non c'è più, ed è anche questo grave, anche questo è molto grave. Facciamo un accennino, allora prima di tutto vi voglio dire che alle 5 e mezza, oggi pomeriggio, sarò live da Peppone Cuore Azzurro con Fabrizio Zamprotta, e parleremo del Napoli, di tutte le cose, ovviamente io sono già proiettato, e quindi domani ci sarà un ulteriore approfondimento pre-partita, perché la situazione con Milan, ragazzi, è la prima di tre partite fondamentali se vogliamo capire se abbiamo ancora qualche speranza, oppure se è già finita, e ci dobbiamo semplicemente lottare per un posto in Europa League, la Lazio in questo momento che sto registrando il video sta vincendo contro il Crotone, ovviamente, chissà se finirà così, quindi vi invito alle 5 e mezza a passare da Peppone, ne parleremo insieme, e ieri è stata la giornata dell'Europa League, noi ci siamo fatti la live dove abbiamo parlato, abbiamo guardato, abbiamo fatto la telecronaca del Milan a casa del Manchester United, un Milan stoico che è riuscito a strappare il pareggio allo scadere, meritandolo, meritandolo diciamolo, un Milan anche lui con parecchie defezioni, sicuramente tante assenze, e stanno facendo di necessità virtù bene, quindi noi dobbiamo prendere esempio e spunto da come il Milan sta affrontando questo periodo, anche loro di grandi infortuni, i ragazzi infortuni stanno in tutta Europa e si stanno moltiplicando, quindi Gattuso out, perché se andate a vedere lo stesso Manchester United ieri non aveva Cavani, Mata, Rashford, non aveva il portiere titolare, Pogba, cioè insomma, anche il Manchester era in grande difficoltà, però è andato lì vicino perché si sono mangiati due o tre gol a porta vuoto, insomma il pareggio è giusto, ma invece la Roma, la Roma si è comportata bene in Europa, con un 3-0 netto, secco, giocando bene, e quindi mi fa piacere per le italiane che continuino in Europa, perché noi in Europa non contiamo più niente a livello italiano, speriamo che l'Atalanta faccia un bel, faccia una bella figura contro il Real Madrid, perché se lo meritano, e per quanto riguarda il Napoli ho sentito che il Milan proverà a recuperare Teo Hernandez e Saranoglo che si sono allenati in gruppo per la partita di domenica sera, che io credo guarderemo insieme live, sto ancora decidendo, come vedete io dormo poco, la voce, devo stare attento, ma purtroppo ci sono delle cose da fare, sto prendendo questa avventura di YouTube come un lavoro e va fatto, per il lavoro bisogna fare dei sacrifici, altrimenti non si cresce, lo capisco, lo capisco, io vi ringrazio perché voi mi state onorando della vostra presenza e del vostro supporto, quindi alla grande, alla grandissima, non ha importanza. quindi l'idea mia è, in conclusione, riusciamo, se loro recuperano Teo Hernandez, riusciremo noi a recuperare Lozano oppure, e lancio un'ipotesi e vi chiedo a voi nei commenti se vi interessa questa cosa, che ne pensate se loro recuperano Teo Hernandez, lo mettono subito titolare, noi aspettiamo e facciamo entrare Lozano nel secondo tempo, così Teo Hernandez sarà in affaticamento e magari Lozano un po' più fresco, magari può dare quello strappo finale, questa era una mia idea, non lo so, anche perché, insomma, metterlo subito dentro il recupero, non so le condizioni di Teo Hernandez, ma so che Lozano non vorrei farlo strappare subito, insomma, ci sono delle cose anche preventive che tu devi fare, no? Devi valutare bene, quindi magari del minutaggio a fine partita che potrebbe essere lo strappo alla partita e sperare in bene, si parla di uno Simen probabilmente titolare, c'è una cosa che non mi piace, qualcuno ha detto che probabilmente non giocherà a Demme, si parla di Bagaio con Fabian, non lo so, non lo so sotto questo punto di vista, però, ragazzi, non diamoci già per vinti, non diamoci già per vinti perché il Milan comunque ha dimostrato di essere vulnerabile se è attaccato, non è una squadra perfetta, è una squadra che ha delle difficoltà, è una squadra che merita rispetto, non li devi lasciare palleggiare, non li devi lasciare verticalizzare perché anche loro ti possono entrare in porta in qualsiasi modo, però, 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 il Napoli deve attaccare, il Napoli se aspetta troppo secondo me le prende, se il Napoli invece reagisce e le attacca e le attacca con coraggio e con velocità e con velocità, ecco che Napoli può essere pericoloso con Simen, con Mertens, vediamo Mertens come sta, insomma, abbiamo le nostre carte da giocarci per questa partita, non guardiamo a lungo termine perché se guardiamo a lungo termine ci viene l'ansia perché abbiamo tanti giocatori diffidati, abbiamo la partita con la Juve che è importantissima perché è una partita extra, non è una partita di mezzo così, è una partita dove ci sono questi tre punti appesi che nessuno sta considerando più e quindi è una partita extra molto importante, poi ci sarà la Roma che sta in grande forma. Roma, Juve e Napoli, mi viene in mente tutto questo discorso su Sarri, sul Walter degli allenatori, il Walter, il Walter De Maggio degli allenatori, il Valzer, concetta, si dice Valzer, lo so, lo so, si dice Valzer degli allenatori, non Walter, Valtere, un grandissimo, Valtere è un grandissimo cortometraggio di Gigi Proietti che vi invito a cercare su YouTube, ma comunque, se è vero come è vero che il Napoli sta pensando a Sarri, al ritorno di Sarri, per, ragazzi, io ho un'idea ben precisa ed è un'idea triste perché a me risulta che Sarri ha ancora un anno di accordo con la Juve, ok? Quindi se il Napoli compra Sarri, libera, praticamente lo deve comprare, cioè ci deve essere un accordo tra Napoli, Juventus e Sarri per liberare, altrimenti loro dovrebbero ancora pagare Sarri per un altro anno. Quindi io ci... questa cosa è molto interessante e chiedo anche a voi nei commenti se avete delle idee al riguardo. Se Sarri veramente prende Sarri, se De Laurentiis veramente prende Sarri, fa un favore alla Juve. di conseguenza, a parte che io credo che la Juve stia addirittura considerando di riprenderselo a Sarri, ma questa è un'idea mia, non ho nessun uccellino che mi ha detto niente al riguardo, ma secondo me avrebbe anche senso riprenderti Sarri che è ancora sotto contratto e riprendere un discorso di gioco a lungo termine perché coprirlo non avete fatto niente. Invece la rifondazione c'è, è in atto, allora riprenditi a Sarri, liberati di Ronaldo e rifai la squadra così. Ma loro non lo so se lo faranno, è una cosa troppo probabilmente intelligente, lasciamo bene. Ma se se lo prende il Napoli facciamo un favore alla Juve ancora, che loro si sono presi un allenatore giovane proprio perché non possono pagare più gli allenatori. Gli fai un favore alla Juve. Di conseguenza le milanesi continuano a essere lì e quindi il Napoli scordatevelo che arriva Sarri e si rimette sopra le milanesi che nonostante non hanno i soldi comunque fanno i debiti e stanno là e c'hanno i giocatori per vincere lo scudetto. Ragazzi, Sarri diventa la macchina delle plus valenze. Diciamole cose come stanno, diciamole come me la sento. Vuol dire che De Laurenti sta pensando di ora mi riprendo a Sarri. Giocano 11, 12, massimo 13 giocatori. Questi giocatori che giocano vengono esaltati a livello dei prezzi che elevi, ma tu che elevi. Vengono esaltati e riprendiamo la macchina delle plus valenze. Ma non viene Sarri per vincere ragazzi perché non si può vincere. Si poteva vincere quando dovevi lottare con una sola e stava succedendo il miracolone, il miracolone di Sarri e del Napoli. Non si è vinto, non si vince più. Torna Sarri, si lotta per il quarto posto e si fa la macchina delle plus valenze. Di conseguenza, questa è una cosa pure grave che sto lanciando, però a me sembra che sia così. non mi sembra che il Napoli prende Sarri per puntare a vincere, ma punta a stabilirsi bello là a fare le plus valenze perché altrimenti ragazzi uno dovrebbe pensare a un Fonseca, dovrebbe pensare a un altro allenatore magari nuovo per impostare, per poi creare. A me mi sa di questa cosa qua. Poi perché Sarri torna? Perché evidentemente o voleva tornare da Juventus e non gli fanno tornare perché so che ha detto no alla Fiorentina. Allora che cosa significa? significa che Sarri probabilmente non ha tutte queste offerte e allora pur di avere comunque una situazione economica perché Sarri la cosa nostra capito dell'onestà del romanticismo scordiamocela scordiamocela perché a livello logico non c'è niente allora Sarri dovrebbe dire io dovrei lasciare un buon ricordo eccetera eccetera scordiamocela questo è un pensiero mio il pensiero di Sarri ah ma di Sordo va benissimo vengo a lavorare non fa niente sono un professionista il professionismo poi speriamo se questo succede che vediamo comunque un bel gioco speriamo di toglierci delle soddisfazioni io sarò il primo tifoso di Sarri allenatore del Napoli però ricordiamoci che nell'ambiente la cosa del traditore la cosa del comandante non funziona più quindi mi raccomando mi raccomando sotto questo punto di vista Sarri perde due partite ne pareggia una succede il cataclisma ricordiamoci il fatto del cataclisma di conseguenza che Dio ce la mandi buona da New York Valerio Fruit è tutto il video che non è uscito stamattina è uscito adesso vediamoci live domani ulteriori approfondimenti ma che devo fare più che devo fare vi voglio bene vi voglio bene forza Napoli sempre al di là di chi verrà ad allenarci mamma Eurocarlo amici bellini siamo arrivati a 5.000 bravi bravi ma adesso abbiamo un altro obiettivo sono i 7.500 dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse iscrivetevi al canale mamma hoi c'è stato tasto mi ricordo come mi chiamo